namaste io sono is the brave e bentornati ad un altro episodio di sneak peek la rubrica case un po quando mi pare in cui vi mostro un gioco che un gioco che potrebbe diventare una serie sul canale oggi vediamo dreadlands questo è un gioco che avevo provato a registrare in live ma aveva un problema di installazione l'ho reinstallato funziona tutto è ancora in fase di sviluppo è un gioco da 11 giga in fase di sviluppo quindi è bello grossetto per essere comunque un indie o comunque un gioco abbastanza di nicchia ed è un tattico a turni vediamo pure di che cosa si tratta parte da qua ho dovuto anche togliere un attimo il salvataggio che avevo fatto per potervi mostrare l'introduzione che è un po particolare insomma come cosa ma qua possiamo vedere effettivamente l'introduzione che non ho neanche visto io quindi godiamocela no one's sure about the house and the wise but the stuff only blooms here and the dreadlands nowhere else it's quite something that glow the stuff won't just fuel your long hauler forever it'll also do hundreds of other crazy things crazy good things some say it's even shaped the play of the land the dreadlands don't look like anything else the god damn mess that's what it is and it ain't just the land the endless fighting among the gangs dying in droves for a chunk of below is a bit of a mess too and unlike some of the land not a pretty now there's a particular gang I want to tell you about from humble beginnings they struggled suffered and fought their way up to leave a lasting mark on the the dreadlands but first they had to find themselves see the dreadlands is no place for wandering vagabonds lacking decent shelter it'll catch you in the open and chew you up in one fell swoop sometimes the land itself seems to take issue with your well-being and won't rest until you choke from poison air drown in quicksilk or beast life feasts on your opponents but as always the most dangerous predator is human the gangs of the dreadlands and it looks like our new friends are just about to stumble into one of them very interesting like the dreadlands are this place in which grows the glow this stone that serves a little bit to everyone and there are the gangs that want to this new material first, interesting because as you can see we already have three fazions available, there are the scarbacks that are in the complete version of the game or if we have the tribe king or the scrapers then these are the nature ah ok the tribus that is from the part of the nature with power enigmatic very territorial and aggressive cacciatori eccetera eccetera quindi immagino siano più sul caccia e sul druidismo diciamo una cosa del genere invece loro sono tinkerers quindi ingegneri quindi andiamo con loro vediamo pure che cosa succede così vedete anche l'ambientazione del gioco veniamo sparati in mezzo alla battaglia non c'è tempo di pensare mentre siamo qui non c'è tempo di fare il regroup quindi vediamo pure defeat the enemy gang e vediamo l'ambientazione di gioco e c'è il signor tnt qua che cos'è questo vabbè andiamo avanti che voglio vedere fare vedere proprio il gameplay direttamente gameplay alla xcom come potete vedere devo spostare solo la mia testa da qualche parte abbiamo possibilità di fare due azioni e una quindi abbastanza semplice come il discorso degli action point in realtà la mia testa andrebbe anche bene l'unica cosa è che qua sotto dove c'è il mouse adesso appaiono ogni tanto dei tooltip ma in realtà non sono troppi vedete che c'è il nostro personaggio che si chiama scott mctaggart che tra l'altro credo siano tutti quanti personalizzabili qui c'è la lista dei movimenti qua c'è aim switch weapon scrap grenade reload e overwatch e possiamo fare spazio per cambiare i nostri personaggi quindi abbiamo un meccanico e un scrapper tank a disposizione quindi possiamo scegliere cosa fare oppure andare dalla parte dei nemici i nemici sono dei goon to refocus on the selected fighter ok quindi torniamo indietro con questa cosa vediamo di andare a colpirli ci mettiamo qua si clicca col sinistro e questo punto cliccando su di lui possiamo cercare di colpirlo 80% l'abbiamo pinnato a terra quindi è diciamo ferito in questo momento spazio così cambiamo personaggio proviamo a fare il giro con lui anzi lui è un tank in realtà quindi proviamo ad andare di qua e adesso che ci siamo mossi facciamo pure fine turno si sotto di me appunto appaiono gli int che possono essere utili insomma questo prova a sparare ma ha mancato due volte andiamo anche a zoomare un po' ok velocissimo questo sangue un po' ovunque ci ha spostato anche di una casella e siamo melee locked ok quindi abbiamo questo discorso dell'attacco di opportunità stile dungeons and dragons se ci muoviamo fuori abbiamo l'attacco opportunità da parte dell'altro interessante meccanica questo mi colpisce a questa parte ma mi ha spostato adesso siamo pinnati da entrambi forse siamo un pinned con lui ok abbiamo ovviamente il discorso della high e low cover ci muoviamo con lui intanto vediamo di autosight autosight qua overwatch aim switch weapon reload switch weapon cos'hai un'arma melee andiamo con l'arma melee mamma abbiamo mancato switch madonna abbiamo sbagliato due volte di seguito ok si può attaccare due volte almeno possiamo fare revive queste cose qua anche ma tu sei autosight gira non so perché mi fa autosight comunque abbiamo finito il turno quindi non possiamo fare nient'altro tu hai perso un po di danni c'è il discorso del morale anche molto molto interessante sta cosa peccato che non sia ancora italiano però potrebbe essere molto utile averlo in italiano questo abbiamo leader e come caratteristica e poi abbiamo un'altra cosa questo è a terra perfetto andiamo ad attaccare il boss qua spiegato l'attacco 90% questa volta si che ce l'abbiamo fatta ok vittoria questa è la fase di combattimento abbastanza semplice free the captive è la prossima missione da fare e in questo caso è una cosa che abbiamo già visto e intravisto anche come ambientazione in quel gioco mutant zero mutant zero si chiama in cui abbiamo delle sezioni invece un pochino più semplici in cui abbiamo possiamo cliccare questo in tempo reale e un po' anche la silent storm se avete visto sul canale dobbiamo liberare lui abbiamo liberato il signor pollux sembra un'opportunità parlano tutti quanti come il il piromane di team fortress 2 comunque andiamo pure avanti abbiamo un'altra missione vedete che abbiamo diverse missioni una dietro l'altra back to back to back e qua abbiamo la tattica di iniziale anche da poter scegliere andiamo con conferma quindi abbiamo un sistema anche di deck building da questo punto di vista volevo mostrarvi però un'altra cosa andiamo un attimo a exit menu perchè se non mi ricordo male c'è anche una gestione poi della base che è molto interessante volevo mostrarvelo velocemente proprio per darvi uno sneak peak eccole qua esatto infatti se abbandoniamo le missioni poi abbiamo tutta una parte di scrap metal quindi di risorse da gestire eccetera eccetera le carte le barracks eccetera eccetera e vedete che la cosa interessante è che effettivamente è anche un gioco di carte collezionabile abbiamo questo è il devo togliere il v-sync mi sa o proviamo a rimetterlo vedere se cambia qualcosa si è un po fastidioso a muoversi destra e sinistra in questa maniera ma tiriamolo via e magari mettiamo qualità high no no è proprio una cosa del 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 di alcune delle texture ma va bene così per adesso abbiamo anche il gore la possibilità di fare auto switch ad esempio questo la mettiamo custom name questo assolutamente sì e quindi possiamo ad esempio cliccare scott si può andare su tra l'altro abbiamo anche dei dei cani da poter utilizzare wallace mckeevan vedete che abbiamo parecchia gente nel nostro gruppo ad esempio c'è il workshop qua quindi è tutto gestito molto più dinamica alla base in cui abbiamo le singole persone da portare in giro molto interessante ed è una meccanica che abbiamo visto su a silent storm questa se vi ricordate quando eravamo nella base interessante possiamo personalizzare abbiamo un lammo abbiamo tutta una serie di cose molto molto profonde in realtà con le singole cose volevo vedere come personalizzare il personaggio eccolo qua name fighter altra cosa che possiamo fare quindi io posso mettere un nome a caso oppure posso chiamarla come uno di voi uno di voi eccetera eccetera abbiamo il fatto che è un goon possiamo vedere gli altri personaggi lui è uno scrap mechanic uno scrapper tank uno scrapper normale scrap hound e quindi il sistema di classi credo dipenda più che altro da semplicemente come sono equipaggiati quindi sembra molto 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 interessante da questo punto di vista sotto di me ci sono alcune statistiche attributi eccetera eccetera siamo i firetrooper brawlers ma li possiamo cambiare tranquillamente nei bravers negli scrap brawlers anzi negli sberlatori questo mi piaceva che l'ha scritta qualcuno nei commenti possiamo selezionare anche la nostra la nostra cosa mi piace l'unicorno eccetera eccetera quindi sembra una cosa molto interessante che potrebbe diventare una serie magari da fare sul sito viola in modo che possiamo proseguire andare a personalizzarci i personaggi eccetera eccetera aspetterei magari l'uscita del gioco completo e possibilmente anche della traduzione italiana oppure contatterò comunque gli sviluppatori del gioco per capire se possiamo dare una mano noi a tradurlo in italiano perché mi sembra un prodotto molto valido ci vediamo quindi al prossimo episodio di sneak peek e adesso il gioco lo disinstallerò per il ciò per il fatto che occupa veramente veramente tanto questa è l'unica pecca secondo me che ho trovato massima ma in realtà è una questione di spazio mia personale in realtà 11 giga soprattutto per i giochi ultimi non è così non è assolutamente così tanto ci vediamo al prossimo episodio io sono East Brave grazie ancora della visione namaste ti vediamo al prossimo episodio